Un saluto a tutti, e vivo più che mai il pregiudizio secondo cui le note sono sette e che le combinazioni tra di esse si sono finite. Questa storia viene tirata fuori di solito quando si tratta di plagi musicali. Potrei iniziare questo discorso da vari punti, ma cercherò essere il più semplice possibile, sperando di non distogliere la vostra attenzione. La prima cosa immediata che devo dirvi è che aggiungendo i semitoni alle sette note arriviamo a ben dodici suoni. Vorrei farvi notare che dodici è la metà di ventiquattro, cioè il numero delle lettere dell'alfabeto. I semitoni sarebbero i tasti neri del pianoforte, cioè il diesis e il bemolle, giusto per capirci. Così noi otteniamo do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la, la diesis, si. Il mi diesis e il si diesis non esistono, ci sono rispettivamente il fa e il do dopo diesi. Però facciamo finta per il momento che veramente le note sono sette come si crede comunemente. Cosa vieta a un musicista di ripetere almeno una nota almeno una volta durante la melodia? Sembra quasi che le sette note siano come sette carte senza doppione che possono essere combinate solo tra di loro? È ovvio che le combinazioni non sono tantissime. Prendiamo come esempio l'inno di Mameli, che tutti noi conosciamo, e che da poco la si ha e riconosce come di pubblico dominio. Per cui lo posso utilizzare per farvi sentire degli estratti e mostrarvi lo spartito. Come avete potuto sentire e vedere, la frase che caratterizza e rende riconoscibile il nostro inno nazionale, non ha tutte le sette note, anche se ben otto suoni. Anzi, possiamo dividere la frase in due, cioè, le prime quattro note sono le stesse di prima, ma alzate di nove semitoni? Nel concreto, al posto di suonare il re si suona il si, al posto del mi si suona il do. Quindi basterebbero due note per creare una frase musicale di senso compiuto, ma in realtà vi direi che ne basterebbe una sola, ma se vedrete il video fino alla fine capirete il come e il perché. Andiamo avanti, avete mai sentito parlare delle ottave? Le stesse sette note si ripetono per le varie ottave. Difficilmente una melodia può essere suonata se uno strumento ha solo una ottava di estensione. Ce ne vogliono almeno un paio. Vi faccio sentire le stesse note di prima, ma su ottava diverse. Innanzitutto il do che è presente nella frase musicale dall'inno di Mammeli è un'ottava sopra il do standard che si trova sotto il rigo nello spartito. Usando solo le sette note della prima ottava che per convenzione si trova sullo spartito il risultato è questo. Evidentemente c'è qualcosa che stona, anche se le note sono le stesse. Ora farò qualcosa di davvero brutto. Metterò le ottave a caso, pur lasciando invariate le note, l'ordine delle note, il tempo, la durata, ecc. Forse si capisce che rino è quello, ma a me sembra che qualcuno stia calpestando il pianoforte. Se non è abbastanza chiaro con questi esempi, ve ne faccio uno più efficace. Senza le ottave non potremo fare gli arpeggi e nemmeno gli accordi sulla chitarra. Vi faccio sentire degli arpeggi di chitarra usando più di un'ottava e poi le stesse note usando una sola ottava. Qui è ancora più palese, perché l'arpeggio è fatto da sole due note, il sole e il re, però il sole è suonato in ben tre ottave diverse, ed è innegabile che senza le ottave sarebbe impossibile, è una cosa completamente diversa da quella di partenza. E anzi, uno dei riff più famosi del rock, cioè quello di Black Sabbath dei Black Sabbath, appunto, basato sul famoso intervallo di quinta diminuita, detto anche Tritono, non sarebbe lo stesso senza le ottave. Vi riporto un esempio modificato per evitare problemi con il copyright. Nel primo caso uso la tonica in due ottave diverse, nel secondo caso uso l'ottava più bassa e nel terzo quella più alta. È indubitabile che il riff è irriconoscibile. Passiamo al problema degli accordi. Essi sono almeno tre note suonate contemporaneamente, anche se le note fossero come sette carte che si possono combinare solo tra di loro senza doppioni, ci sarebbero comunque gli accordi, perché davvero nulla vieterebbe a un musicista di suonare le note contemporaneamente, quindi andrebbero considerate le possibilità di combinare le note non solo in successione ma anche contemporaneamente. Ma come sto cercando di spiegare le possibilità non si fermano qui. Quante potrebbero essere le combinazioni delle varie note suonate contemporaneamente, più le single note suonate singolarmente, considerando che le note si ripetono per le varie ottave? Ci sono tantissimi accordi, per il Do esiste il Do maggiore, minore, settima, major seven, minore settima, e tanti tanti altri, e lo stesso vale per le altre note e i semitoni. Non solo, esiste anche la durata delle note, che è forse la cosa più importante e determinante. Torniamo all'inno di Mammeli e vi faccio sentire cosa succede se cambio la durata delle note e metto tutte semi-minime. Ora prendo le stesse note e stravolgo completamente le durate, rendendo completamente irriconoscibile la melodia. E ripeto che sono sempre le stesse note, nella stessa successione, stesse ottave, eccetera cambia solo la durata. Questa dovrebbe essere l'elemento decisivo per farvi comprendere che non è tanto la sequenza di note a fare la differenza. Ora sto per farvi un ulteriore esempio per farvi capire come è possibile anche con una nota fare una frase musicale riconoscibile. Nelle heavy metal le cosiddette cavalcate, nelle ritmiche, sono diventate uno standard, e ve ne faccio un esempio banale evitando di violare i copyright di vari autori. Quello che avete appena sentito è un tipico riff all Iron Maiden. Per ogni battuta la nota è sempre la stessa, cambia la durata, poi lo stesso riff si ripete in altre due tonalità. Questo è per farvi capire quanto la durata è fondamentale per fare musica. Volete un esempio ancora più estremo? Bene, avete presente i breakdown in generi come metalcore, deadcore, o quei riff tecnicissimi di gruppi come mesuga o gent in generale? Tenete presente che l'intro del lunghissimo brano dei mesuga che si chiama I, consiste nel suonare per circa un minuto e mezzo ore di esis. La differenza sta nelle durate delle singole ripetizioni, anzi, per 3 minuti e 35 suona quasi sempre la stessa nota, perlomeno la parte ritmica. Ora vi porto un esempio fatto da me di riff suonato in quello stile pazzesco, ma non così tecnico ed efficace come lo fanno loro. Quello che avete sentito è un gran casino, lo so, purtroppo non sono in grado di suonare i mesuda. A parte questo era solo un I, nessun'altra nota. Ma c'è una cosa che ancora molti non sanno. Se tra un tono e un altro in mezzo c'è il semitono cosa c'è tra un tono e il semitono? Ci sono i microtoni, cioè intervalli inferiori a quelli di un semitono. In teoria i toni sono suddivisibili all'infinito. Ora non ho tempo per approfondire la questione dei microtoni, ma sappiate che in pratica il blues è una musica microtonale. In realtà la musica microtonale è tutta la musica mondiale, tranne quella occidentale dal rinascimento in poi. In seguito i microtoni sono stati recuperati dalla musica sperimentale. Aggiungendo i microtoni a tutte le cose che ho elencato finora, quante possibili combinazioni esistono, se proprio volete essere legati alla concezione seconda cui tutto dipende dal numero delle note. Non solo vi ho spiegato che con i semitoni si arriva a 12 suoni e non più 7, ma con i microtoni sono potenzialmente infiniti. Ho parlato anche troppo, se vi interessano i microtoni vi consiglio di fare approfondimenti. Credete ancora che le note sono solo 7 e che le combinazioni si stiano per finire e che inevitabilmente le melodie si somigliano? Oppure siamo noi che pensiamo in maniera schematica e tradizionale? Torneremo a parlare di questo argomento appena posso per il momento è tutto, alla prossima!